Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla dice il protagonista di Novecento. E allora quando la Holden mi ha invitato a venire qui a raccontare la mia esperienza che nasce soprattutto dal punto di vista professionale ho pensato che erano le storie quelle che dovevano guidare il racconto di questi dieci minuti che passeremo insieme. Il racconto delle persone che ho la fortuna di incontrare ogni giorno facendo il mio lavoro e che mi hanno consentito di affrontare tanti dei temi che sono stati toccati oggi e soprattutto Marina mi ha coinvolto e mi ha fatto rivivere tante delle esperienze che ho vissuto in questi anni in cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto nei progetti che abbiamo sviluppato e cui abbiamo dato vita e alle persone che ho incontrato. E c'è una ragazza che è entrata nel mio cuore oltre che nella mia vita si chiama, va bene, come si chiama lo faccio dire a lei dopo, nel filmato che vedrete. Ve la racconto e poi la faccio raccontare da lei e da suo papà e dalla sua straordinaria famiglia. Qualche tempo fa le ho chiesto di raccontarmi un po' per iscritto, per un lavoro che stavo facendo, la sua esperienza, la sua vita ed è stato divertente perché dopo due giorni il suo padre mi ha chiamato e mi ha detto guarda che se non la fermi fa un romanzo. Ecco, di quelle parole ho tenuto traccia e mi fa piacere riproporle spesso perché penso che siano un percorso che come ho fatto io può fare ognuno di voi. Sono una di quelle ragazze che non sta mai ferma, faccio mille attività, ho mille amici conoscenti e devo dire che sono fortunatissima perché la mia famiglia mi sostiene in tutte le attività che svolgo. Ho conosciuto la scuola di sci South the Project grazie a mia zia Maria che un giorno, nell'inverno del 2003-2004, mi ha detto vieni a provare a sciare, lì in quella valle tanto amata da tutta la mia famiglia è nata la mia più grande passione, lo sci. Da fine ottobre, quando in città piove, chiedo ai miei genitori ma su, sarà neve? E loro mi prendono sempre in giro. Anche se qui a Torino i fiocchi bianchi non si sono ancora visti, papà quando siamo in macchina mi indica sempre le cime innevate. Spesso è proprio papà ad accompagnarmi fino a bordo pista, mi prepara, controlla che io sia attrezzato in modo adeguato e con l'aiuto del maestro del giorno mi aiuta a sedermi sul guscio e poi per almeno due o tre ore non mi vede più. Lo sci per me non è solo uno degli sport che amo di più, è il momento liberatorio in cui sono io che sfogo tutta me stessa. Il maestro guida il guscio, è una specie di sedile regolabile, rigido ma leggero, alla cui base sono attaccati uno o due sci. Ma sono io che con il corpo devo seguire i comandi, che il maestro mi urla. A volte qualcuno di loro si confonde destra con sinistra, però io seguo come riesco. Nelle curve a destra ormai mi butto come uno sessa. Se piego bene, come quelli che vanno in moto, metto la mano sulla neve e riesco a tenercela per tutta la curva. Invece a sinistra, lato da cui faccio più fatica, dipende un po' dalle giornate. Diciamo che sugli sci fa la differenza anche chi ti guida perché devi avere fiducia nell'istruttore per poterti lasciare andare al punto da diventare una cosa sola. Se c'è feeling molto alto con il maestro non c'è bisogno neanche di parlare, ci si capisce. Con alcuni di loro ho un legame talmente forte che anche al di fuori della stagione rimaniamo in contatto. Per me andare a SAUZ è come andare in una grande famiglia. Mi sento a casa, però questo sport lo posso fare solo pochi mesi l'anno. E secondo voi, a una come me, basta? Certamente no. La nostra è primogenita, ha vent'anni compiuta a dicembre. È stata un'avventura, diciamo, da quando è nata. Ha un'energia dentro che fa sì che tutti noi seguiamo a ruota e organizziamo veramente mille cose. Scusa, io sono così come nei gradini che devo superare. Posso dire che io uso gli ostacoli come dei gradini che posso superare. L'incontro non ultimo con BMW, ma con Ciavi e tante altre cose che abbiamo fatto, sarà fortuna, sarà destino, ma ci stanno aiutando molto. Sì, più o meno l'ha passata lui col progetto BMW tre dieci anni fa. Ed è stato, direi, sia per noi sia per loro, e per questi splendidi maestri, un amore a prima vista. Ancora una conseguenza più bella, oltre al progetto, riconosce questo giornalista che proprio nel decennale di BMW sciabile, ci ha proposto questa disciplina. Il mio primo commento è stato, cavolo, poca giochiamo a boccia, uno sport da vecchia, una palla terribile, una cosa. E invece devo dire che passo dopo passo si è veramente dimostrata una disciplina divertentissima. il supporto di papà è quello ovviamente di rompere le scatole, la manetta, perché è quello da quando la tua giochi la stessa, penso che poi mi manderà dove è giusto che mi mandi. Il sogno ovviamente è quello di puntare a Tokyo nel 2020, e di avere finalmente una nazionale italiana che possa andare a rappresentarci. Ovviamente io tra l'ottore vogliamo esserci. Ciao, sono Davide, questa è la nostra storia. Questa è la storia di Carlotta, purtroppo alle Olimpiadi di Tokyo non siamo riusciti ad andare, perché una delle cose che siamo riusciti a fare e lavorando con Pancalli è stato di creare un movimento paralimpico che è quello della boccia, dove giocano tanti di questi atleti con disabilità come Carlotta. Siamo arrivati a tanto così da qualificare un atleta, ma non ce l'abbiamo fatta. Ma credo che quello che conti è lo spirito con cui questa ragazza, iniziando a fare sci, poi si è messa a fare la boccia, si è laureata un anno e mezzo fa. Ecco, vivere queste esperienze, quando io vado a sciabile, dico sempre che io vado a sciabile non perché ci devo andare per lavoro, non perché abbiamo un progetto, ma perché ogni volta che vado lì, io stando insieme a questi ragazzi imparo un sacco di cose e imparo che veramente non ci sono limiti. L'altra persona che ho avuto la fortuna di incrociare nella mia vita, e questa sì, per ricordare quello che diceva Marina prima, è una di quelle persone che cambia e ha cambiato molto nella percezione di questi temi, è Alessandro Zanardi, che come tutti sapete purtroppo sta vivendo un altro periodo di sfortuna dopo un incidente importante, ma ecco, quello che ho imparato stando insieme ad Alessandro è soprattutto il tema del talento residuo. Il talento residuo è quello che noi abbiamo dentro, comunque, qualunque cosa succede. Alessandro dice sempre, si può nascere con delle disabilità, oppure come nel mio caso le disabilità possono arrivare, ma l'approccio del talento residuo è chiedersi cosa posso fare con tutto quello che mi è rimasto. E credo che sia un insegnamento straordinario per ognuno di noi, e questo è un punto di quelli che fa sì che ci poniamo tutti dallo stesso punto di vista, perché ognuno di noi ha delle cose che funzionano e delle altre che non funzionano. Quindi è questa la grande lezione che ogni volta che sto in mezzo a questi ragazzi e ragazze straordinari, apprendo a guardare anche dal mio punto di vista e far forza sulle cose che imparo, anche di me stesso. E questo è il valore aggiunto di vivere questa esperienza, e la fortuna di fare il mestiere che mi ha portato poi a incrociare questi ragazzi e queste ragazze. Non so se non avessi fatto questo mestiere, se avrei avuto la stessa capacità di ascolto, perché poi questa è una cosa che mi chiedo ogni volta. Io mi ci sono trovato in queste situazioni e magari non mi ci sarei trovato se non avessi incontrato queste realtà, perché poi superare anche le nostre barriere e mettersi in discussione, avere la capacità di confrontarsi con tutti a parole è molto semplice, ma poi nella realtà siamo in grado di farlo, siamo in grado di metterci in tutte le condizioni di ascolto dell'altro con le diversità che abbiamo visto oggi. Io non lo so, me lo domando ancora oggi e ringrazio di aver avuto questa chance di incontrare queste persone straordinarie che mi hanno fatto riflettere. L'altra cosa che ho imparato stando insieme a questi atleti, perché poi alla fine il mondo dello sport è stato un asset straordinario, è il senso di autoironia e il linguaggio. Si è parlato anche prima di linguaggio, io ho imparato stando insieme a loro a essere molto provocatorio e a fare le stesse battute che faccio con i miei amici. E questo l'ho imparato in gran parte da Zanardi, che è molto autoironico. Ricordo che qualche anno fa, prima che preparasse l'ennesima Paralimpiade, un giorno l'ho chiamato per chiedergli come stava preparando la Paralimpiade e lui mi disse sai che ho scoperto una cosa interessantissima qui sull'isola d'Elba, dove lui ha una casa e si va a allenare. E dire che ci vengo da un sacco di tempo, c'è una gara che non posso fare quest'anno perché ci sono le Olimpiadi, ma la faccio sicuramente l'anno prossimo, si chiama la tagliagambe, è sicuramente la mia gara. Ecco, mille di queste battute, oppure l'anno prima al Mugello quando corre una gara con le nostre automobili e la mattina scopre di avere la febbre a 38,5 e mi dice è colpa mia, ieri ho camminato a piedi nudi nell'acqua e mi sono raffreddato. Ecco, tutto questo approccio diventa un approccio anche di vicinanza, di condivisione e l'avvicinamento che ho scoperto con questi ragazzi, anche con Carlotta, nasce anche dal tema proprio delle parole. Un'altra fortuna che ho avuto in questi anni di lavoro è di incontrare Claudio Arrigoni, che è questo giornalista del Corriere della Sera della Gazzetta, che da sempre segue le Paralimpiadi e addirittura Claudio, e mi rallaccio ancora a quello che diceva Marina prima, ha fatto un decalogo, ha scritto diversi libri, Claudio vi invito ad andarlo a cercare, e nell'ultimo che è stato pubblicato quest'anno, prima delle Paralimpiadi, si chiama Ribelli, alla fine ha proprio messo il decalogo delle parole. All'inizio quando me l'ha detto non ci ho prestato molta attenzione, ma poi ho compreso, ho capito che la differenza, l'approccio diverso nasceva in primis da questo e ha fatto proprio una scheda di quello che si dice e di quello che non si deve dire, ma non perché è un'etichetta, perché è un tema di umano, un tema di rapporto con le persone indipendentemente, e per cui prima quando Marina parlava ho pensato mi sta rubando alcune delle battute, perché una di quelle che avevo guardato proprio prima di salire sul parco era non si deve dire confinato, costretto, relegato in carrozzina, ma guardate che queste cose le diciamo sul serio, cioè io adesso ogni volta ho il blocco perché dico se mi sentisse a Rigoni mi cazzerebbe e imparando a fare questo ragionamento mi sono reso conto che poi uno dice le cose come le deve dire, che sono assolutamente normali, si muove con la carrozzina, quindi per concludere i giochi paralimpici sono stati uno straordinario meccanismo di comunicazione, io ho avuto la fortuna di vivere in piccolo il tema dello sport che anche in questo caso è qualcosa di importante perché facilita tutta una serie di riflessioni che altrimenti facciamo fatica a fare, quello che mi piace dire, che vorrei lasciarvi come piccolo esercizio, è di guardare delle volte le proiezioni, di non fermarsi a guardare il dettaglio, ma di guardare l'essere umano che c'è dietro qualsiasi situazione, dietro qualsiasi esperienza e mi piace concludere con una frase di Stephen Hawking che dice siamo tutti differenti l'uno dall'altro, non esiste un essere umano standard, ma tutti condividiamo la stessa natura umana, ciò che è fondamentale è la nostra abilità di creare, creatività che può avere molte forme, forme che vanno dalle realizzazioni concrete alla fisica teorica. Per quanto la vita possa sembrare difficile, c'è sempre qualcosa che potete fare e nel quale ottenere soddisfazioni. Credo che queste immagini straordinarie indichino che potenzialità abbiamo come esseri umani. Lasciamole liberare. Grazie. Applausi. 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 Grazie.